Cerco di dare il massimo quando vengo chiamato in causa, adesso i due Caci e Iallo sono infortunati, se Martedì dovesse rigiocare darò l'anima anche Martedì. Perché poi non soltanto il gol su Belcross di Don Corr, tu sei stato bravo a staccarti dai due centrali, tant'è vero che poi il difensore destro e Casasola non è riuscito a chiudere la diagonale, ma tutta la prestazione è stata convincente da parte tua? Sì, mi sento bene fisicamente, con questo nuovo modulo, con il 4-3-3, con Dalmonte e Laribi mi trovo molto bene, quindi ci sono tutti i motivi per i quali mi devo impegnare, essere positivo e lavorare serenamente. È finita la partita, ho visto i risultati, le cose non sono cambiate, adesso mancano sempre meno partite, però noi sono positivo, ripeto, perché con questo modo di giocare, con questo atteggiamento penso che possiamo fare bene. Abbiamo fatto vedere che siamo una squadra viva, che sta bene fisicamente, abbiamo tenuto molto bene oggi perché comunque la Selernitana ha una qualità molto sopra la media, secondo me è un buonissimo gioco e noi comunque al di là dei primi minuti del primo tempo dove abbiamo rischiato qualche occasione di prendere gol, poi dopo abbiamo trovato compattezza e specialmente il secondo tempo non abbiamo più avuto grandi pericoli, anzi forse dovevamo sfruttare qualche contropiede o qualche ultimo passaggio decisivo più accurato.